Mi sembra che si sta caratterizzando sempre di più per un movimento che fa espulsione. Io non entro nel movimento al quale non appartengo. Continuo a vedere molta poca chiarezza in questa vicenda. Io l'ho detto anche ieri, se il sindaco non ha nulla da nascondere ed è un punto di riferimento contro la camorra, non si dimetta e dica, spieghi, chiarisca. Invece il contorno che emerge è un contorno turbido e verifichiamo che la prima esperienza amministrativa nella città metropolitana di Napoli a guida 5 Stelle da appena sei mesi, fortemente sostenuta dai vertici campani del movimento a 5 Stelle, è caratterizzata da una storia brutta, turbida e inquietante di infiltrazione della camorra e tra l'altro tra uno dei clan camorristici più pericolosi. Non a caso i nuvoletta Polverino sono affiliati a Cosa Nostra. Su queste vicende c'è una chiarezza. Io non credo che la chiarezza si fa in questo modo, limitandosi a dire tutto a posto abbiamo espulso la cattiva. Io penso che il sindaco merita rispetto e deve però spiegare, perché io credo che fin quando non c'è chiarezza è chiaro che l'aspetto torbido aumenta e la vicenda secondo me è molto molto poco chiara, quello che sta avvenendo fuori e credo che nessuno debba gioire per questo, perché io sono un sostenitore del fatto che il Movimento 5 Stelle rappresenti veramente una novità della politica e probabilmente loro in queste ore non stanno contribuendo però alla verità e alla chiarezza in un territorio molto complicato in cui tutto ci si poteva aspettare da queste amministrazioni di quarto tranne che cadere sulla camorra.